Tasse più alte a Popoli con prezzi delle tariffe e domande individuali in alcuni casi raddoppiati. Lo denunciano in una nota i consiglieri comunali di minoranza Mario Lattanzo e Vanessa Combatteli del gruppo consigliare Prima Popoli contestando le scelte compiure della maggioranza sul bilancio. Le lampade votive cimiteriali passano da 14,62 euro a 20 euro. Fosse Vergini da 25,82 euro passano a 36 euro. Anche il servizio di rifezione scolastica posticipata a settembre andrà a pesare sulle spalle delle famiglie, sottolineano Attanzo e Combatteli. Il pasto nelle materne da 2,35 euro costerà 2,90 euro. Il pasto nelle elementari da 3,16 euro costerà 3,80 euro. Alle medie da 3,50 euro a 4,20 euro. All'asilo nido da 1 euro a 2 euro. Anche il trasporto scolastico interessato da 14 euro a 17 euro. Le famiglie dunque sono mortificate da questi nuovi provvedimenti, concludono i consiglieri Lattanzo e Combatteli. Noi del gruppo consigliare Prima Popoli abbiamo votato contro rispettando la parola data ai cittadini durante l'ultima campagna elettorale.